Oggi parliamo di sistemi, parliamo di processi, parliamo di quanto è importante avere dei sistemi in atto. Parto con una citazione, che è quella che mi ha ispirato l'episodio di oggi, la citazione di Scott Adams, fumettista bravissimo, che sicuramente conoscete, avete visto qualcuna delle sue opere, ma che non molti sanno, ha scritto anche dei libri che sono favolosi, quindi vi consiglio anche i suoi libri. Scott Adams in uno di questi libri usa un'espressione molto forte, quasi una provocazione secondo me, che dice i perdenti hanno degli obiettivi, i vincenti hanno dei sistemi. Ora, la prima parte, diciamo, presa da sola potrebbe, come dire, sembrare troppo cattiva, è appunto una provocazione, perché gli obiettivi sono importanti in realtà, sono fondamentali, e sapete io ne ho parlato spesso qui sopra e sono un grande amante del concetto degli obiettivi. Ovviamente gli obiettivi da soli non bastano, è questo quello che vuole dire Scott Adams con quella citazione, quindi avere solo degli obiettivi serve a poco se poi non hai messo in modo un processo, un sistema, per effettivamente raggiungere quegli obiettivi. Ed ecco che quindi arriva la seconda parte della sua citazione, che dice i vincenti invece hanno dei sistemi. E oggi voglio parlare di questa cosa, voglio parlarvi dell'importanza dei sistemi, dell'importanza dei processi, chiamiamoli come li vogliamo chiamare. Ed è una cosa che io mi porto dietro, se avete visto, ultimamente ho pubblicato, qualche settimana fa ho pubblicato sul mio canale YouTube un episodio dove parlo di perché l'informatica mi ha salvato, perché sono grato al fatto di aver studiato l'informatica, che mi ha dato un certo mindset, un certo approccio, un certo modo di ragionare, che poi mi porto anche nel mondo del lavoro. Recuperatelo se non l'avete visto. È abbastanza collegato come concetto, è l'importanza dell'avere dei sistemi, mettere in piedi dei sistemi è quello che poi fa la differenza. Quindi lì c'è un obiettivo, ma come arrivo a quell'obiettivo, come raggiungo quell'obiettivo, quali sono gli step che devo fare, i passi da fare per raggiungerlo. E ne faccio un esempio molto molto banale, ad esempio per la produzione di contenuti, come quello che state ascoltando o vedendo in questo momento. Una domanda che ricevo proprio in continuazione, ma come fai a pubblicare tutta quella roba? Ma come fai a mettere fuori tutti quei video, post sul blog, eccetera, eccetera. Proprio è classica, classica, classica. Io tutte le volte rispondo, vabbè, perché semplicemente ho messo in piedi dei sistemi, ho messo in piedi dei processi, delle cose che funzionano sempre così, sono abbastanza standard. E sembra una cazzata, ma in realtà fa tutta la differenza di questo mondo, ed è qualcosa che potete scoprire anche osservando gente famosa, persone di successo e così via. Tra l'altro di questa cosa io ne parlo tantissimo nel libricino nuovo, questo qui, l'arte della pazienza, dove affronto un sacco sia il tema degli obiettivi che il tema dei processi. E quindi nel caso dei video, questa settimana, per esempio, non avevo assolutamente voglia di registrare. Ero scazzatissimo, non ci avevo voglia, non ci avevo voglia, ero stanco per altre cose, per altre attività, eccetera, eccetera. In che modo ho superato questo momento? Perché poi alla fine sono riuscito comunque a mettere giù e a registrare dei video? Perché? Perché io ho in piedi dei sistemi. In questo caso sono cose molto semplici, ovviamente, però è il concetto che voglio lasciarvi, che voi potete applicare in qualsiasi contesto. Che significa? Significa che tutte le volte che io devo registrare un video, riduco lo sforzo al minimo perché ho già pronto tutto il sistema di produzione. E quindi ad esempio c'ho tutto un file all'interno del quale raccolgo le idee. E quindi se c'è una mattina dove mi sveglio e quella mattina sono scazzato, poco creativo, non c'ho voglia, mi rompo le palle di fare qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, sicuramente non mi verrà l'idea geniale, no, per fare il super video dell'anno. In quei momenti apro il file e non devo inventarmi niente di nuovo, scorro la lista, ne trovo uno che mi piace e dico ok, perfetto, stamattina registro questo qua. Ed è quello ad esempio che sto facendo in questo momento, perché questo era un episodio che avevo in mente da parecchio tempo, che avevo segnato dentro questo file e ho detto una mattina dove devo registrare, ma non c'ho voglia di fare un cazzo, posso registrare quello. E questa è una banalità, no, avere delle idee pronte all'interno di un file. Quindi ci sono dei giorni magari dove siete carichi a pallettoni, vi sentite super creativi, esplosivi, eccetera, eccetera, approfittate, no, accumulate roba in quei giorni, perché dopo vi servirà nei momenti in cui magari siete un po' più scazzati, un po' più down e così via. Quindi questa è una cosa che mi aiuta, ma mi aiuta banalmente il fatto di avere già tutto preparato. E quindi in questo momento di fronte a me e a fianco a me ci sono delle luci, di fronte a me c'è una camera, c'è il microfono che è sempre attaccato sull'asta, eccetera, eccetera. Quando devo registrare non devo mettermi a montare, no, questo mondo è quell'altro. Premo rec, registro, bam, mando il video a montare. Mi ha aiutato tantissimo delle gare, e quindi il fatto che non me li devo più montare io, eppure quello mi toglieva tanto tempo, e soprattutto a volte mi scocciava proprio, perché magari avevo cose più urgenti da fare, rimandavo, 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 e poi per settimane non uscivo con nessun video. Ecco cosa significa mettere in piedi dei sistemi. Queste piccole cose, nel caso specifico, aiutano. E quindi c'ho il file con tutte le idee, c'ho l'attrezzatura già tutta preparata, c'ho la persona che me lo monta e me lo restituisce finito. Ciao ragazzi. E così via. Ovviamente, no, applicatelo poi nel vostro caso, e capite cosa significa mettere in piedi un sistema, costruire un processo, no? Quasi standardizzare delle azioni. Quindi io so che riduco al minimo lo sforzo, e questo mi permette di attivarmi anche nei momenti nei quali magari non c'ho voglia. E poi, diciamo, parte dell'avere dei sistemi. Significa proprio questo. Significa che io, nonostante non avessi voglia, sto in questo momento a registrare. Ok? Quindi attenzione. Non è che poi, come dire, penso che questo faccia la differenza tra il fare certe cose in maniera amatoriale, e il fare certe cose in maniera professionale. Quando le devi fare in maniera professionale, tu lo fai e basta, pure se quel giorno ti sei svegliato con la luna storta, e c'hai la tua rottura di coglioni per qualche motivo. Prendo e registro lo stesso. Possa essere, che ne so, registrare un video, o fare un'altra cosa, però il concetto che voglio trasmettere è un pochino questo qui, ed è quello che può fare la differenza. Se lo appliciamo in un altro contesto, del quale ho discusso molto spesso ultimamente in parecchie live, interviste che mi hanno fatto, perché sto presentando un pochino questo libricino, no? L'arte della pazienza, che è l'ultimo che ho pubblicato. E questo è il quarto libro in cinque anni, 2017, sì, ad oggi in cinque anni. E allora più di una volta è emersa la domanda, con l'intervistatore, l'intervistatrice di turno, Ma come fai a scrivere tutti questi libri? Che è un'altra versione del No, come fai a fare tutti questi video? O qualsiasi altra cosa vi può venire in mente. E la mia risposta, anche in quel caso, è stata quasi banale, no? Quasi per dire, ah, veramente è questo? Non c'è nessun trucco, nessun segreto? Prendo una citazione che ho messo anche all'interno del libro, che era di Hemingway, se non sbaglio. Sì, esatto, di Hemingway. Ed Hemingway, quando gli dicevano Ma cosa fai quando hai il blocco dello scrittore, quando non c'è voglia, quando non sei creativo, eccetera, eccetera, Lui diceva che aveva utilizzato questo trucchetto su di sé per autoingannarsi e per andare avanti. Lui diceva, se io voglio scrivere, che ne so, in media 20 pagine al giorno, io quel giorno dico, ok, dai, non ce la farei a scriverne 20. Però apri comunque, mettiti a scrivere e butta giù mezza paginetta. Che ne so, una paginetta, adesso non ricordo di preciso com'era. E lui diceva, una volta che ho iniziato e che sto facendo quella mezza paginetta, poi in realtà mi trovo, no, mi trovo nel flow e scrivo sempre più di mezza paginetta, magari ne scrivo uno, magari ne scrivo due, magari a scriverne 20, non ci arrivo, però ne scrivo comunque tante. L'importante, diceva lui, era quella di non fermarsi, quello di andare avanti, non avere comunque un pezzettino che hai aggiunto, no? Un altro mattoncino che hai messo in questo muro. E per me è uguale, per la scrittura dei libri è uguale, è identica come cosa. Questo l'ho imparato negli anni, perché per il primo è stato proprio un delirio, è una cosa che è stata difficilissima e sulla quale ho sofferta. L'ultimo è un lavoro che ho buttato giù in pochissimo tempo rispetto al primo, perché avevo messo in piedi dei sistemi, perché avevo fatto un buon lavoro di ricerca in precedenza, di raccolta del materiale, di organizzazione delle idee, quindi anche gli strumenti poi in questo caso aiutano, e quindi alla fine, no, la parte finale, la parte che mi è pesata di meno rispetto magari a come avevo approcciato altri libri in passato. C'era, c'è una bellissima citazione barra battuta di Stephen King, altro autore abbastanza noto, che qualcosina l'ha scritta, e lui scrive questi tomi giganti, no? Da mille pagine a botta e una volta gli hanno chiesto durante un'intervista Steve, ma come si fa a scrivere un libro di mille pagine? E lui ha risposto una pagina per volta, che è una risposta talmente semplice, ma talmente potente, che è la verità, cioè non dobbiamo sapere nient'altro, questa è l'unica informazione che ci serve sapere per andare avanti. Come lo scrive un libro di mille pagine? Una pagina per volta. Poi questa frase esiste in mille declinazioni, perché è abbastanza famosa e si usa da secoli, probabilmente, ma il senso è quello lì, no? Del fare un passettino, dell'avere in piedi un processo, dell'aver costruito un sistema, e quindi quando lo guardi il lavoro finito dici, oh mio Dio, un libro da mille pagine, chissà come cazzo ha fatto Stephen King, oh mio Dio, Raffaello ha pubblicato il quarto libro in cinque anni, chissà come ha fatto, semplicemente non fermandosi, semplicemente avendo in piedi un processo, avendo in piedi dei sistemi, scrivendo anche quando non c'ho voglia, anche quando c'ho le palle che mi girano, o mi sono sveato storto quella mattina, o che so, fuori il tempo è brutto e non mi sento creativo, andare comunque avanti seguendo il sistema che hai impostato in precedenza, eccetera, eccetera. Ovviamente mi sono concentrato sulla scrittura in questo caso, perché è un esempio che ho, come dire, molto molto fresco, sul libro questo qui e di cui sto parlando molto spesso negli ultimi giorni, ma vale, come avete capito, per tanto altro, e penso soprattutto che non valga solo nel mondo del lavoro, cioè questo vale uguale se volete imparare a suonare uno strumento, se volete perdere dei chili, se volete imparare una nuova lingua, se volete acquisire una nuova competenza, e chi più ne ha più ne metta, ok? Questo è il ragionamento importante, anzi, tra l'altro, una cosa che vi consiglio è che dentro questo qui, l'arte della pazienza, se non l'avete ancora preso, vi lascio il link qui sotto in descrizione, qui dentro è strapieno di esempi di persone famose, persone che noi definiremo di successo, preso gente del mondo del business, della musica, dello sport, nei settori più disparati, ma invece di raccontarvi la parte finale, e quindi il successo, tra virgolette, vi ho raccontato il processo, perché? Perché del successo parlano tutti, ed è la cosa figa che fa vendere i libri, fa fare i click, le visualizzazioni, però nessuno ci racconta il processo, nessuno ci racconta cosa è successo prima, e secondo me invece è quella la parte interessante, è da lì che noi possiamo imparare tanto, perché poi là scopri appunto come si organizzavano, come lavoravano, tutte le volte che hanno avuto delle batosse, delle sconfitte, dei fallimenti, delle porte in faccia, eccetera eccetera, quindi parlando di processi, parlando di sistemi, sicuramente qui dentro, nell'arte della pazienza, potrete trovare un po' di spunti utili, quindi siamo partiti dalla citazione iniziale, noi i perdenti hanno obiettivi, i vincenti hanno sistemi, abbiamo capito ora cosa significa, significa che gli obiettivi sono fondamentali, ma da soli non bastano, ok? altrimenti siamo solo dei bravi sognatori, poi in realtà dobbiamo capire come cazzo ci arriviamo a raggiungere quegli obiettivi. Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo episodio, oggi abbiamo parlato di sistemi, abbiamo parlato di processi, è da una vita che volevo parlarne, ed è uscito fuori adesso, perché come vi dicevo, qui dentro, nell'arte della pazienza, il mio nuovo libro, ne parlo veramente tanto, 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 e vi confesso che è una delle parti che state apprezzando di più, e io sono stracontento di questa cosa, perché era una grossa scommessa, andare a prendere magari qualche nome famoso, ma raccontarvi qualcosa di insolito, qualcosa di meno risaputo, di meno noto al grande pubblico. Se non l'avete letto, dategli un'occhiadina, perché secondo me potrebbe esservi utile. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, quindi cosa pensate dell'episodio di oggi, un po' di questo tema dei processi, dei sistemi, se è qualcosa sul quale voi siete già abituati, già lo fate, già è il vostro mindset, aspetto i vostri feedback, quindi come lo state impostando, e che risultati vi sta dando. Se invece per voi è un'assoluta novità, fatemi sapere se oggi c'è qualche spunto utile, qualche, no, qualche spunto di riflessione interessante, qualche lampadina che vi ho acceso, qualche stimolo che vi ho dato. Come sempre aspetto i vostri commenti, perché poi si generano delle chiacchierate interessanti. Prima di salutarci, e di chiudere l'episodio di oggi, vi ricordo che potete seguirmi sul canale YouTube, se preferite il formato video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché un sacco guardano i video, ma non si iscrivono, quindi iscrivetevi al canale. E invece il podcast, se preferite più la parte audio, perché mi ascoltate ma non mi guardate. Ma in generale, ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn, che è il social sul quale sono più attivo in assoluto. Prima di salutarci, vi ricordo anche che io ho una scuola online, un'academy, che si chiama Growth Program. L'indirizzo è growthprogram.it, lo trovate come sempre il link qui sotto in descrizione. Attenzione, non è un corso, ok? Non è un corso online, è una scuola. Quindi entrate, potete rimanerci dentro pure per degli anni, non ha una fine, perché ci sono sempre contenuti nuovi da studiare. Alcuni li porto io e altri invece li portano degli esperti, degli ospiti esterni che invito ogni mese e sono il top in Italia sul tema del business e del marketing. Fatevi un giro su growthprogram.it perché potrebbe interessarvi. Io vi do appuntamento invece al prossimo episodio. e poi vi do appuntamento invece al prossimo episodio. e poi vi do appuntamento invece al prossimo episodio.